Ciao a tutti, in questo video voglio parlare della tecnica di seduzione Push-Pull. Come funziona, come si può applicare, quali sono le caratteristiche. Intanto tieni presente di iscriverti al canale YouTube Massimo Terramasco, attivando la campanella, così riceverai la notifica di nuovi video. Iscriviti a tutti i miei canali Massimo Terramasco, crescita personale, felicità benessere, amor e autostima. Che cos'è la tecnica Push-Pull? Push-Pull significa tira e molla fondamentalmente. È una tecnica che va eseguita, diciamo, mostrando interesse alterno nei confronti di una persona. Cioè ogni tanto ti dimostri disponibile, ogni tanto non ti dimostri disponibile. Questo perché in questo modo vai a, come dire, gratificare entrambe le parti. Ovviamente quando ne gratifichi una ne penalizzi un'altra. Le nostre parti interne, che sono la sfera emotiva e la sfera logica. La sfera logica viene gratificata quando tu dai disponibilità, quindi tiri, diciamo così, e la sfera emotiva viene gratificata quando ti allontani, quando molli. Questo per quale motivo? Perché la sfera emotiva si nutre di tensione. E ovviamente quando tu dai disponibilità nei confronti di una persona non crei tensione, ma addirittura possiamo dire che vai a gratificare la tensione, a ridurre la tensione. Mentre invece quando sparisci rigeneri la tensione. Ovviamente servono entrambe le cose, anche perché, come dire, la doccia scozzese, acqua calda, acqua fredda, fa sentire le temperature molto di più. Quindi se tu scappassi sempre, fosse sempre indisponibile, dopo un po' scateni i meccanismi di difesa. Invece in questo caso, dando e togliendo, togliendo e dando, utilizzi, diciamo, un effetto psicologico che è l'effetto Skinner o l'effetto di rinforzo intermittente, che naturalmente utilizzano gli narcisisti e che genera un'ossessione nei confronti di quella persona. Perché quando la gratificazione raggiunge, avviene, non si sa come, non si sa quando, le persone si accaniscono su quella situazione. Ecco quindi che, questa è un'altra cosa importante, non deve essere prevedibile il modo in cui, quando tu sei disponibile o quando non lo sai. Deve essere sempre casuale, in modo tale che la persona non possa crearsi degli schemi. E questa è come va utilizzata nel modo giusto la tecnica push-pull. Ovviamente gratificazione e penalizzazione ci devono essere entrambe, perché una serve all'altra fondamentalmente. Bene, per questo video è tutto. Seguimi sulla pagina Instagram, su TikTok, ovviamente, sul canale YouTube Massimo Terramasch e su tutti gli altri. Ciao!